Buongiorno a te, benvenuto a questo nuovo video. Allora, oggi ho assistito a una partita di calcio giovanile e la conclusione è che i ragazzi si accontentano di poco. Una squadra con ragazzi che hanno un buon livello tecnico, che si impegnano sicuramente, però quello che ho visto è che si accontentano di poco. Noi ci accontentiamo di poco. Noi riusciamo a fare un gol, due gol, a vincere una partita, però guardiamo l'avversario. L'avversario andava battuto meno 5 a 0, se non 10 a 0. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci accontentiamo di poco. È necessario alzare l'asticella, è necessario guardare un po' più in alto. Ogni tanto andiamo su, su quelle montagne. Loro ci vedono ogni giorno, chissà cosa si chiedono di noi. Che domande si fanno? L'essere umano si accontenta. Si accontenta e gode di piccoli piaceri. Mentre noi siamo l'assoluta bellezza della vita. Noi siamo qua per dare bellezza, siamo qua per esprimere il nostro potenziale al massimo. E non vuol dire quantità, non vuol dire per esempio in una gara di atletica spaccare i record e quell'altro, ma vuol dire fare ogni cosa con bellezza, con armonia, con passione, metterci il cuore, metterci la nostra essenza, espandere questo mondo, questa società, questa terra, portarla a una grandezza che secondo me ci aveva migliaia d'anni fa, ma qualcuno ha preferito tarpiare le ali a quest'essere umano e lasciarlo vivere. E lasciarlo vivere con il minimo. Il minimo cos'è? Il minimo è fare quello che è semplice. Il massimo è fare quello che è complicato. E complicato non è una questione tecnica, non è una questione matematica. Il complicato è semplice, paradosso. Siamo nei paradossi, siamo nella dualità. Non c'è nella realtà nessun paradosso, nessuna realtà. Come la viviamo? Non c'è dualità. Noi siamo magnificenza, Noi siamo estrema unzione. Noi siamo quella vita. E questa vita non chiede niente, ma ti dà tutto. Allora tu dai tutto, dai tutto. Non c'è un altro giorno, c'è solo questo giorno. Allora dai la bellezza che hai in te, che tu sei. Dai questa grandezza. Basta con le bassezze, basta con le basse energie, basta con la piccolezza. Ah, lui è piccolino, lui è piccolino, ma è grandioso dentro di lui. È l'estrema realizzazione della vita. È ogni battito di cuore. È ogni video che io faccio ogni giorno. È vero, a volte siamo stanchi, ma fallo quel video anche tu, quando sei stanco. Tu lo fai, io lo faccio. Ci metto la faccia, non me ne frega, niente. Questa faccia è bellissima perché me l'hanno dato mio padre e mia madre. Allora sarò grato per sempre, perché non c'è... Non c'è l'adesso. Andiamo oltre. C'è il per sempre. C'è l'infinita grandezza della vita. Siamo qui e siamo sicuramente in qualsiasi cellula, in qualsiasi atomo di vita. E dunque ogni nostra azione avrà una ridondanza da un'altra parte. E per questo è fondamentale prendersi questa responsabilità, prendere quel pallone sporco, pulirlo e portarlo a compimento in quell'angolo di quella porta di calcio. Anche tu, porta la tua grandezza al tuo prossimo, a tua sorella, a tuo fratello. E quando non ne hai voglia, porta la grandezza a te. Tu sei quella grandezza. Un abbraccio, un aughi. Iscriviti al canale, metti mi piace il video, condividilo con i tuoi amici. Adesso, secondo me, non è necessario far crescere un canale, ma far crescere quello che siamo. Già, non c'è bisogno di fare niente, basta solo saperlo. Una UG. Ciao.